Per quanto riguarda il futuro ovviamente c'è tanto ancora lavoro da fare, prima di tutto con una nuova norma, quindi penso una riscrizione, una riscrittura completa della legge sulla sicurezza e sulle polizie locali per garantire che su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia ci sia questo presidio costante e continuo garantito da uomini e da mezzi. Una nuova legge regionale sulla sicurezza e sulla polizia locale nel 2019 con la riorganizzazione completa dell'attuale sistema. L'ha annunciata l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti a Lignano in occasione della cerimonia per il patrono della polizia locale San Sebastiano durante la quale sono stati consegnati 59 riconoscimenti, un'occasione per tracciare un bilancio dell'attività annuale. Riguardo i numeri del passato, i numeri sono abbastanza eloquenti, lo dimostrano i tanti attestati, i tanti encomi che abbiamo consegnato oggi, ma basta andare a leggersi un quotidiano qualunque in un qualsiasi giorno dell'anno per capire quanto effettivamente la polizia locale è fondamentale per il presidio del territorio e per la sicurezza delle nostre comunità. Il tema della sicurezza della polizia locale, ha ricordato l'assessore, resta centrale per l'amministrazione regionale. L'abbiamo dimostrato già con la legge di stabilità di recente approvata che stanzia già per il 2019 4 milioni e 4 sul programma sicurezza, quindi per quei comuni che hanno un corpo di polizia locale, ma anche altri 3 milioni e mezzo di euro che andranno in parte destinati per i contributi ai privati per l'acquisto di telecamere di video sorveglianza, impianti anti-intrusione, in parte per andare a coprire le esigenze di quei comuni che fino adesso erano stati esclusi dai finanziamenti perché non erano riusciti a mettere su un corpo di polizia locale.